Entro fine mese i migranti ospiti all'hotel Paradiso di 90 Padovana lasceranno definitivamente la struttura ricettiva. La notizia riportata dal Gazzettino sarebbe trapelata dopo un incontro a cui ha partecipato il presidente della cooperativa Sara, che gestisce i profughi a 90, e il vicepresidente della provincia di Padova, Marcello Bano. All'interno dell'ex struttura ricettiva, più volte contestata dagli esponenti della Lega di 90, ci sarebbero ancora 41 profughi. Di secondo quanto rivelato da Bano, la cooperativa, dopo l'approvazione del decreto Salvini, non ha voluto rinnovare il contratto, non ha preso parte alcun bando e di fatto il 31 maggio ha completato la sua opera. La proroga finirà così il 31 di luglio.